Ciao, sono Alessandra, mi è sempre piaciuta la danza classica, non l'ho fatta da bambina, l'ho ritrovata con Alina alla mia età e sono felicissima, lo trovo un esercizio bellissimo che consiglierei a tutte le donne. Sicuramente la postura, l'equilibrio fisico, il rafforzamento e la tonificazione muscolare e la soluzione a quelle problematiche che col passare degli anni toccano un po' tutte le donne. Assolutamente sì, si recupera oltre all'aspetto fisico, si recupera una grazia che ci portiamo dietro per tutta la giornata, per tutta la serata. Io dico sempre arriviamo qui stanche, affaticate da lavoro, usciamo e siamo tutti alla sbarra, siamo tutte bellissime. Grazie Alina.